Buongiorno a tutti, io non ho più parole in Italia, ci sono due politici, un assessore, due suoi vice, che hanno preso la social car, quella da 360 euro. Social car, gli assessori De Maio, gesto inopportuno ma non illecito, hanno la faccia tosta, altro che fassino. Ok, questi sono presi la carda, i soldi che prendono. Lucere inferiore, sindaco, carda, assessori, guardate basta vedere le facce che hanno qua, primo cittadino, e poi lui li difende pure, conferma la vigiuncia ai tre membri della giunta, perché persone per bene, per bene, attribuendo a un gesto maturo dell'inesperienza, e se sono inesperti, sbattili fuori, no? I tre devolveranno i soldi ai servizi sociali. Fate veramente schifo, sono presi la carda i politici, fanno schifo.